Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi rispondiamo un po' a delle domande che mi avete fatto su Ask E ho un po' paura di quello che mi avete chiesto o scritto Oh mio Dio, non so cosa rispondere Soprattutto mi raccomando lasciate un bel mi piace al video e... Aiuto! Allora, iniziamo un po' con queste domandine Ehm... ok, partiamo bene con... Sono innamorato di te, Gaietta Ti ringrazio, mi dispiace che ti sei innamorato di me Sono così strana, assurda e oh mio Dio, perché ti sei innamorato di me? Ho voglia di fare foto, Gaietta Un weekend di questi facciamo un set, vero? Basta sapessi chi tu sia, magari, forse Per alimentare i flame ti tocco di nuovo una poppa in foto What? Ci sono una volta tipo... Che cavolo sei? Che poppe in foto Aspetta, due persone solo l'hanno fatto Una non credo che abbia scritto questa domanda, perché... No? L'altra sei raffi Perché se sei raffi, allora... Magari se non mi tocca una poppa è meglio Però potremmo fare un set in questo Iscrivimi Basta, c'è una foto da piccolina Ok, anzi, ve la faccio vedere perché ce l'ho qua Ecco, questa è la mia foto da piccolina Sono io, tutta sporca di Nutella Ho mangiato tanto Nutella Ciao Gaia, ci parli un po' della tua vita privata Prima di poter parlare della mia vita privata Dovrei effettivamente avere una vita privata In questo preciso momento non ho una vita privata Perché sono sempre in preda al lavoro, video, cosplay Adesso non ho streaming perché il tempo che dedicavo allo streaming È stato occupato dal tempo che stavo a letto perché stavo male Quindi diciamo che non ho tempo per avere una vita effettivamente privata Tutto quello che posso, lo posto Voglio vedere praticamente tutto quello che è la mia vita Per cui non c'è molto di privato da raccontare ormai Ciao Gaia, come ti senti oggi? Volevo dirti che mi fai sempre compagnia E non mi stanco mai di vedere i tuoi video Ha ha Comunque la mia domanda è Come te la cavi in cucina? Raccontaci un'esperienza terribile in cucina Lo so che non c'entra ma sono veramente curiosa Un bacione Oggi non mi sento benissimo Perché comunque non mi sento benissimo Ho un po' di problemi ai muscoli in questi giorni Sto un po' KO Infatti tra poco inizia la nuova cura Quindi speriamo bene Incrociamo le dita Come te la cavi in cucina? Malissimo Sono una pessima cuoca Ma veramente pessima Tranne per i dolci Che sono l'unica cosa che so bene o male fare Le mie terribili esperienze in cucina L'altro giorno mi sono cucinata una pasta E ho messo troppo sale Quindi mi sono mangiata tipo Una sorta di pasta Che in realtà sembrava mangiare a manciate di sale Ma l'esperienza terribile L'ho avuta la prima volta che ho provato a fare il caramello Sola in casa E la cosa è finita con me Che buttavo una padella Perché il caramello si era incrostato nella padella E non riuscivo più a levare Non trovi anche tu che sia difficile spiegare l'ironia ai cleptomani Visto che prendono letteralmente tutto Gaia di che colore erano i tuoi capelli E come mani hai dei colorati di fucsia viola Se sembra una bellissima cosa per una ragazza davvero simpatico Quindi così I capelli di norma sono castani Castano scuro Penso Sì, penso Di natura sono castano scuro Gli ho colorati di fucsia Perché diciamo è il colore che mi è piaciuto di più Tra tutti quelli che ho fatti Sostanzialmente li ho fatti tutti Il rosa l'ho fatto per la mia laurea Quando mi sono laureata E quindi un po' per festeggiare così Li ho fatti rosa Prima ero completamente verde Il blu viola è arrivato perché avevo preso la tinta blu Per farla a un'altra persona Questa persona non ha più voluto fare i capelli blu Quindi io avevo lì la tinta blu Mi sono detta Vabbè ragazzi sbattiamola sulle punte dai capelli E vediamo cosa esce E poi mi piace alla fine Quindi l'ho ottenuto Qual è il cosplay in cui ti senti più a tuo agio? Qual è il cosplay in cui ti senti più a tuo agio? Allora sicuramente il cosplay in cui mi sento più a mio agio E Nami di One Piece come mai sapete tutti È il mio cosplay di punta Il mio cosplay preferito E sicuramente quello in cui mi sento più a mio agio In quello in cui ti senti meno Ce ne sono tanti Ce ne sono tantissimi per diversi motivi Widowmaker perché non mi piace Non so perché Ma quello peggiore in assoluto Penso sia stato Night Raven Fiora Infatti di quel cosplay esiste una foto Penso che o troverò il modo di salvare quell'armatura Di rifarci qualcos'altro Penso venderò completamente l'armatura Perché no 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 E no Da niente d'ora ti ho scoperta grazie alla Sabri Verrai a Malpensa Fiera Il 13 e 14 Mangio sì Ti vengo a Malpensa sicuramente la domenica Il sabato non lo so Dipende un po' da come sono messa Con impegni, cosplay e quant'altro Hai mai avuto un amico Che tu reputavi migliore amico Che poi alle spalle ti emotiva? Penso ti mentiva Una cosa del genere Comunque sì Ne ho avuti molto più di uno Tanta gente che io pensavo fossero miei amici Grandi amici comunque Persone che erano nella mia vita Che a cui io tenevo tantissimo E poi nel tempo ho scoperto che mi mentivano Mi prendevano in giro E dicevano agli altri le mie cose Dicevano falsità sul mio conto E quindi diciamo che non erano molto Non sono molto buone Persone molto buone Quindi fortunatamente ad ora le ho eliminate Tutta della mia vita Spero di non trovarne altre Come ci si sente ad essere in realtà nessuno Dove sfruttare gli altri Per un vero minimo di visibilità Please teach me Oh finalmente le domande flammose Eravate tutti carini e coccolini Oh allora Come ci si sente ad essere in realtà nessuno Questo dovresti dirmelo tu Perché probabilmente tu sei nessuno Avendomi scritto una domanda del genere Perché flammare così a caso Una persona che non ti conosce in maniera anonima Ti rende effettivamente Una persona piccola e insignificante E un nessuno E dover sfruttare gli altri Per avere un minimo di visibilità Mi piacerebbe effettivamente Sapere chi io stia sfruttando In questo momento Per avere visibilità Ehi ciao vaietta Sono un tuo fan da poco E sto iniziando ora il mio percorso da cosplayer Non so cucire davvero E non ho molti soldi per permettermi dei costumi Come posso fare? Il mio consiglio è Parti da cosplay semplici Che sono Che puoi reperire in modo facilissimo Che possono essere dei jeans Una maglietta Un paio di pantaloni Che quindi puoi trovare magari in negozi Come Primark O Wichinem O anche al mercato A basso costo Quindi parti davvero dalle cose più semplici Poi Se invece vuoi buttarti su qualcosa Di un pochino più complesso Parti dalle basi Cose molto semplici E che puoi trovare facilmente Cartamodelli online Oppure puoi ricavare il cartamodello Magari da abiti Che non usi più Tipo magari li tagli lungo le cuciture E li usi effettivamente come cartamodelli Io ho imparato così a cucire da sola Seguendo qualche consiglio su internet Per cui Provaci Impegnati Cerca su internet qualche tutorial Vedrai che piano piano ce la fai Parti sempre dalle cose più semplici Però mi raccomando Come hai conosciuto i tuoi moderatori? Questa è carina Allora Tanti sono i miei amici Tanti Alcuni Sono i miei amici Nella vita reale Li conosco Fanno parte della mia vita Di tutti i giorni E mi hanno detto Beh quando ci sono Salgo e ti modero io Una è Gaian Dandera Un altro ragazzo Un ragazzo che viene dal mio Patreon Che si è offerto Di farmi da moderatore Ancora proprio all'inizio Quando iniziavo a parlare con loro Della mia voglia Di fare Twitch Di fare streaming E un altro invece Un ragazzo che ho conosciuto a Romics E Diciamo è stato Uno delle persone più attive Nei miei primi streaming Davali tutto il giorno Tutto il giorno Tutto il tempo Mi aiutava Era molto attivo Era molto felice Si coinvolgeva la chat Quindi ho detto Ok va bene Tu mi piaci Fai da moderatore Cosa ti staresti appassionata Se non avessi avuto La passione per il mondo del cosplay Probabilmente avrei continuato La mia passione per il teatro Quindi sarei andata avanti A recitare A fare commedie A fare comunque cose Regate a recitazione Al teatro Penso La tesoro Domanda Per te qual è stato Il mio cosplay Che hai fatto fino ad ora Il tuo preferito in assoluto Ovviamente rispondi Con la foto del cosplay Così lo vediamo anche noi Penso che uno dei miei Cosplay migliori Sia effettivamente Anna L'ultimo che ho portato Perché veramente È un cosplay curato Fino al minimo dettaglio Fino all'ultimo bottone Messo lì perfettamente Perché porca paletta Dovevo essere perfetto E quello penso Sia effettivamente Il migliore Che ho fatto in assoluto Anche in termini di qualità La cosa è che Non ho ancora foto Perché quelle del romics Ancora non sono arrivate Effettivamente Forse devo cercare Su qualche pagina E non ho ancora fatto set Per cui I fotografi Se volete fotografare E farmi dei set Con il mio cosplay di Anna Scrivetemi per favore Che vorrei delle foto carine Con questo cosplay Visto che mi ci sono Spaccata sopra Quando hai dato L'ultimo bacio Allora Stamattina Al mio Gatto No Gaia Ma è vero che ti hanno chiesto Di passare una serata In un parcheggio Di un centro commerciale Oh E chi se lo ricorda Non mi ricordo Neanche cosa ho mangiato Ieri Sera Sera Secondo te Mi ricordo di qualcuno Che mi ha chiesto Di passare una serata In un parcheggio In un parcheggio Ma non mi suona familiare Penso di no Quale motivo Ti ha spinta Ad aprire un canale YouTube Non lo so Sono state le altre persone A spingermi Io ho sempre voluto Non so Prendere E mettere E fare la cretina Davanti a una webcam Parlare delle mie cose Far vedere come si fa cosplay Ma non ho mai avuto il coraggio Sono veramente anni Che ne parlavo Non è una cosa nata L'anno scorso Quando poi effettivamente Ho aperto il canale Ma è una cosa Che era nata Anni e anni prima Solo che mi sono state Tipo persone Che mi hanno presa Mi ci hanno buttato Tipo fallo ora O ti picchio E quindi poi L'ho fatto effettivamente La cosa più imbarazzante Che ti è successa Ragazzi la mia vita È complessa Io sono imbarazzante Ogni tre per due Faccio Cagate Cadomi Rovescio Roba addosso Quindi sono imbarazzante Dovrei raccontarvi Davvero tutta la mia vita Per dirvi una cosa Imbarazzante Sono un ragazzo semplice Quindi ti farò Una domanda Sulle tette Eccola Scelgo l'ultima domanda Dico ok Questa E mi becco La domanda Sulle tette Perfetto Così per Chiudere il video Per i cospi Per salanti con le tettone Dei manga giapponesi Le tue ti bastano Usi imbottiture o tecniche Vari Tipo quella Della matrioska Di reggiseni PS Viva le tette grosse Allora Non ho mai Usato la matrioska Di reggiseni Anche perché Effettivamente Se dovesse usare La matrioska Di reggiseni La cosa sarebbe Enormemente imbarazzante Mi bastano le mie Per quello che sono E no Grazie Non imbottiture Perché risulterai Grottesca Già sono magra Così E no Ecco Quindi forse Meglio Se non esagio E quindi no Come mi vedete in fiera Potete benissimo Vedere Quando faccio Nami Che il reggisenue Uno Non c'è Imbottitura E non c'è La matrioska Dai Siete stati abbastanza buoni Con queste domande Allora Vi lascio qua sotto Anche il mio profilo Ask Così voi Continuate a farmi domande E io risponderò Nei prossimi video Mi raccomando Fate bravi Ci vediamo domani mattina Che faremo una piccola live Su youtube Verso le 11 Mi raccomando Siateci Un bacione Mia mia Ciao